Mi ridici cos'è questa? È una voglia, io ci sono nata. Un giorno stavo parlando con Dio e lui ha detto se avessi bisogno di trovarti dovrò lasciarti un piccolo segnetto perché ci sono un sacco di Sandra a Dublino! Non posso abitare così lontano dalla scuola. È una soluzione temporanea. Evviva! Ma che stiamo facendo, Sandra? Credi sia giusto per l'uovo? Sono morta! Ah! Volevo cambiare le cose, ci ho provato. Per quanto lo si desideri, certe persone non si possono cambiare. Ve lo sei cercato! Chi ce l'ha fatto fare? Nessuno di noi la vedrà questa casa. Signori, mi dispiace. Non servono grandi competenze per costruire una casa. Come posso aiutarla? Voglio costruire una casa. Senti, mi dispiace, ma ci sono troppi rischi per tutti. Chiedere non costa niente. Perché non lo hai chiesto a me? Una casa fai da te. Non volevo che lo vedessi. Ma l'ho visto. Perciò, questo terreno sta andando in malora. Usalo tu. Una casa nostra, nel bel mezzo di un giardino. Si potrebbe fare. Ma? Servirà qualcuno che sappia quello che fa. Immagino un uomo. Una persona qualificata. Lasciamo a Sandra l'onore. Tu non puoi prenderti le mie figlie! Va bene, va bene. Ho trovato qualcuno che ci darà una mano. Dai, forza! Che senso ha costruire una casa se non avrò con me le mie figlie? Che senso scopo! Grazie a tutti.